ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi come avete letto dal titolo andremo a vedere come impostare una dieta prima di iniziare ti consiglio di andare a vedere il video che è uscito la settimana scorsa sul mio canale youtube dove spiego cosa sono i macro e i micronutrienti in modo da poter comprendere al meglio come impostare una dieta bilanciata premesso che io non sono nutrizionista queste sono semplicemente delle linee guida ma quindi come si imposta una dieta bilanciata bella domanda non lo so neanche i nostri per ottenere una dieta bilanciata bisogna avere un giusto rapporto di macronutrienti e micronutrienti ma come si calcolano questi macronutrienti per sapere il numero di macronutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno dobbiamo conoscere il nostro fabbisogno energetico ma come si calcola questo fabbisogno energetico il nostro fabbisogno energetico è molto semplice da calcolare infatti ci basterà andare su google e digitare td e e calculator a qui ci sono vari siti potete sceglierne uno qualunque però ricordate che più dati vi chiede e più accurato sarà il risultato che vi darà ovviamente il risultato sarà strettamente personale e dipenderà dalla vostra età dalla vostra altezza e soprattutto dallo stile di vita che avete ad esempio a me è uscito che ho la necessità di introdurre 3140 chilocalorie al giorno ma ora come vanno suddivise queste chilocalorie quindi ora andiamo a vedere come suddividerle sia in massa che in definizione iniziamo dalla definizione ovviamente qui ci sono i miei numeri ma voi lo dovete fare con i vostri quindi alle mie 3140 chilocalorie dobbiamo togliere dalle 300 alle 500 chilocalorie in base a cosa scegliamo 300 o 500 in base ai vostri obiettivi se volete avere una definizione maggiore allora andiamo sulle 500 chilocalorie ovviamente non dovete elevare subito 500 chilocalorie ma arrivarci gradualmente quindi ad esempio prima ne togliete 200 poi 300 poi 400 e infine arrivate a 500 quindi si ottiene che ho bisogno di 2640 chilocalorie al giorno ora vediamo come suddividerle quindi le nostre 2640 chilocalorie le andiamo a suddividere nei vari macronutrienti ovvero proteine carboidrati e grassi iniziamo dalle proteine infatti il nostro corpo per mantenere la massa magra avrà bisogno dalle 2,2 alle 2,4 grammi di proteine per peso di chilocorporeo io scelgo sempre i 2,4 grammi di proteine scegliamo questo quantitativo in base a principalmente due motivi motivo è sicuramente se noi preferiamo assumere le nostre calorie dalle proteine quindi ad esempio dalla carne dalle uova o dal pesce quindi andando a prendere i 2,4 grammi moltiplicandoli per il mio peso corporeo che è 78 kg ovviamente è solo un dato di riferimento qui dovete mettere il vostro peso sarà uguale a 187 grammi di proteine quindi io in una giornata devo assumere 187 grammi di proteine passiamo i grassi per i grassi invece dobbiamo prendere il 20 o il 30 per cento delle nostre calorie totali io scelgo il 20 per cento perché specialmente in definizione dove le energie ci vengono a mancare preferisco essere più basso di grassi e più alto di carboidrati quindi andando a svolgere questo calcolo esce fuori che dobbiamo mangiare 528 chilocalorie al giorno per sapere i grammi di grassi non ci resta nient'altro da fare che dividerlo per 9 infatti come spiego nel video che ho pubblicato la settimana scorsa sui macro e micronutrienti quindi se te lo sei perso vattelo a vedere un grammo di grasso ci fornisce 9 chilocalorie quindi non ci resta altro che dividere le nostre 528 chilocalorie per 9 riuscirà che dovremmo mangiare 59 grammi di grassi in una giornata infine ci restano i carboidrati i carboidrati non sono nient'altro che il restante delle calorie quindi basterà prendere le nostre calorie giornaliere e sottrarle a quelle dei grassi e delle proteine qui andiamo a moltiplicare i grammi dei grassi per 9 come abbiamo detto prima perché un grammo di grasso fornisce 9 chilocalorie mentre qui andiamo a moltiplicare per 4 perché le proteine e i carboidrati forniscono 4 chilocalorie per ogni grammo quindi uscirà che dobbiamo mangiare 1361 chilocalorie di carboidrati al giorno e per sapere i grammi non ci resta nient'altro che dividere per 4 uscirà che dobbiamo mangiare 340 grammi di carboidrati al giorno finito niente di più semplice ora passiamo alla massa per la definizione non abbiamo fatto nient'altro che sottrarre le calorie al nostro fabbisogno energetico giornaliero per la massa non ci resta nient'altro che aggiungere delle calorie quindi andiamo a prendere le nostre 3140 chilocalorie e le andiamo a sommare a 300 o 500 chilocalorie anche in questo caso per decidere se vogliamo aumentare di 300 oppure di 500 chilocalorie dipende sempre dai vostri obiettivi se volete mettere più massa muscolare allora vi consiglio di andare sulle 500 chilocalorie mentre se non avete questa necessità ma volete solo una leggera massa vi consiglio di andare sulle 300 chilocalorie noi prendiamo come punto di riferimento le 500 chilocalorie quindi andando a sommare otteniamo che dobbiamo mangiare in una giornata 3640 chilocalorie andiamo a vedere come suddividerle le proteine dobbiamo scegliere se mangiare 2 o 2,2 grammi di proteine per peso di chilocorporeo io mi attengo sempre sulla quota massima ovvero le 2,2 grammi di proteine quindi svolgendo un attimo i conti esce fuori che dobbiamo mangiare 172 grammi di proteine al giorno questi invece rimangono invariati infatti dobbiamo scegliere il 20 il 30 per cento della quota calorica giornaliera io mi attengo sempre sulla quota minima ovvero il 20 per cento proprio per un fatto in modo da poter sfruttare più calorie dei carboidrati proprio perché l'obiettivo principale della massa è proprio quello di costruire più massa muscolare possibile di noi introducendo più carboidrati abbiamo più energie quindi miglioriamo anche quello che è il nostro allenamento e riusciamo a costruire più massa muscolare svolgendo i conti otteniamo che dobbiamo mangiare 728 chilocalorie al giorno dividendole per 9 perché un grammo di grassi ha 9 chilocalorie otteniamo che dobbiamo mangiare 80 grammi di grassi al giorno infine i carboidrati sono le calorie restanti quindi alla somma calorica giornaliera andiamo a sottrarre quelle che sono le calorie dei grassi e le calorie dei carboidrati i grassi li andiamo a moltiplicare per 9 sempre per la stessa ragione di prima e lo stesso vale per le proteine che andiamo a moltiplicarle per 4 otteniamo che dobbiamo mangiare 2232 chilocalorie di carboidrati andando a dividere per 4 sempre per lo stesso motivo otteniamo che dobbiamo mangiare 558 grammi di carboidrati al giorno niente di più facile ovviamente oltre ai macronutrienti ci sono i micronutrienti per soddisfare il vostro fabbisogno di micronutrienti vi basterà mangiare tanta frutta e verdura un consiglio personale che posso darvi è di variare il più possibile per quanto riguarda sia la verdura che la frutta in modo da ottenere vitamine e minerali differenti se volete posso darvi dei consigli su quali alimenti scegliere alimenti che vi consiglio di preferire nella vostra dieta sono alimenti non processati e salutari esempio di fonti proteiche che potete inserire nella vostra dieta sono ad esempio le carni bianche le carni magre affettati magri pesce e legumi hanno bene anche latticini freschi formaggi e il burro d'arachidi però questi ultimi tre alimenti che vi ho citato vi consiglio di usarne in quantità minore proprio perché hanno anche un elevato quantitativo di grassi i grassi vi posso consigliare olio extravergine di oliva avocado burro d'arachidi latticini freschi formaggi oppure anche del pesce grasso come ad esempio del salmone invece come fonti di carboidrati potete optare per pane pasta patate legumi come alimenti vi consiglio di variare il più possibile in modo da avere una dieta sana ed equilibrata questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao